A te, Millie! Oh, ciao! Ciao! Ehi, là! Siamo il team Umizumi e stiamo giocando a palla! Prendi la bot! Risa! Amico Umi, hai mai giocato a palla? Frank, credo tu sia confuso. Questo è il deserto. Zoe non vive qui. Oh, davvero? Signor cammello, sai dove vive Zoe la zebra?